Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Annalisa Terranova, giornalista, buonasera Jacopo Coghe, portavoce del movimento Provita e Famiglia, buonasera Lucio Caracciolo, direttore di Limes e direttore della scuola di geopolitica di Limes e buonasera Massimo Giannini, editorialista di Repubblica. Andrea Scanzi, buonasera, bentornato anche a te. Buonasera. Allora continua come avete sentito la polemica sul caso Giulio Spano e si aprono anche conflitti dentro Fratelli d'Italia, subito dopo la pubblicità. Allora Massimo Giannini, continua la bufetta. era sul caso Giulio Spano e intanto ti chiedo, Spano si è dimesso, perché ancora non abbiamo capito bene, per un conflitto di interessi, per l'omofobia di parte di Fratelli d'Italia della Meloni o perché Palazzo Chigi non voleva avere uno ritenuto della parte avversa presente nei preconsigli dei ministri, perché i capi di gabinetto presenziano ai preconsigli dei ministri. Ma guarda, io penso che un giorno ricorderemo col sorriso queste traggi comiche della destra non più al potere, un giorno credo neanche molto lontano, perché noi siamo passati per quello che riguarda il Ministero della Cultura. dal caso San Giuliano Boccia, che sembrava gli ultimi giorni di Pompei, a questo clima di fine impero che scoppia per il caso Giulio Spano, che secondo me è il condensato delle cose che hai già detto, ma soprattutto del tratto caratteristico di questa destra di governo tra molte virgolette, che è incompetente, arrogante, oscurantista e settaria. Allora, tutte e tre le cose che hai citato secondo me ci sono. Non c'è proprio niente di positivo. Da questo punto di vista direi di no, e lo spiego rapidissimamente, quello che hai appena detto, le tre motivazioni ci sono tutte e tre. Diciamo che le prime due mi sembrano un pretesto, quella fondamentale è la terza. Nel senso che c'è un piccolo conflitto di interessi in capo a Spano, vero, è stato assunto quando lui era al maxi, assunto con un contratto di consulenze, suo marito. E quindi questo effettivamente, ancorché riprodotto nel corso degli anni, un minimo di problema lo crea, però nessun ministro se ne era mai accorto, neanche quelli di prima, e neanche San Giuliano e neanche Giulio. È venuto fuori così. C'era sicuramente una componente omofoba, perché poi ce lo spiegherà Coghe, il movimento Pro-Life è insorto e insieme al movimento Pro-Life è insorta una discreta parte della base di Fratelli d'Italia, che hanno accusato Spano, e attraverso di lui suo marito che aveva la consulenza, di essere pederasta. Quindi un pederasta non può stare in un ministero come quello della cultura. Tutto questo però che cosa ci dice? Che il vero problema là, per questo parlo di due pretesti, è il fatto che non si può dare in nessun ministero, ma meno che mai in quello della cultura, una nomina di una persona che sia fuori dal cerchio magico, si diceva un tempo, questo è un cerchio tragico in realtà, di Meloni, del melonismo e del sottosegretario Rasputin di Palazzo Chigi, che si chiama Fazzolari, tutti quelli che sono fuori da quella cerchia o non vengono imbarcati oppure vengono espunti. Giulia ha fatto il grave errore di tenere duro su una persona che considerava competente, ma purtroppo non era fedele. Lo era quello di prima, Giglioli, che Giulia ha cacciato via subito e infatti ha fatto arrabbiare sia Fazzolari sia la stessa Meloni che Mantovano. Averci messo spano, pederasta e oltretutto in odore di essere pure di sinistra è un errore che non potevano tollerare, infatti l'hanno fatto fuori. È così, Analisa Terranova, perché te lo chiedo anche perché tu oggi sui tuoi social su Facebook, credo, hai scritto la politica dei fratelli d'Italia deve essere laica e libera dai diktat dei provita e famiglia, e ascolti bene Cove, prima si chiarisce questo equivoco e meglio è, l'atteggiamento di avversione verso i gay è disgustoso e imbarazzante. Come mai queste parole così dure? Beh, allora intanto io penso di avere detto l'ovvio, nel senso che una destra non solo laica ma fedele alla sua tradizione culturale ha al centro delle sue battaglie politiche e della sua visione la libertà e la dignità della persona, quindi il rispetto verso le persone e le loro scelte deve essere assoluto e totale e una destra che è stata a lungo discriminata e a lungo ghettizzata non può fare della discriminazione verso altre categorie un punto di riferimento. Quindi io pensavo di aver detto sicuramente una ovvietà e non mi aspettavo neanche il successo, diciamo, che questo post ha avuto. Però vorrei fare, se mi consenti, un passo indietro rispetto a quello che io ho scritto oggi per dire che il problema di Giulie non è solo la nomina di Spano, è che esiste nei suoi confronti una aspra campagna di delegittimazione di Giulie, che culmina con l'inchiesta di Report che da telemeloni scatena questo gossip con accenti omofobi, sì però Renucci l'ha presentata con certi toni e diciamo così accendendo certe curiosità, certi pruriti eccetera e a questo si uniscono anche le affermazioni indecorose di questo dirigente di quarta fila di Fratelli d'Italia, che mi risulta non essere più di Fratelli d'Italia perché si è dimesso o comunque insomma lo hanno giustamente messo da parte, che definisce Pederasta Spano. Ecco, quindi diciamo così, il problema è complessivo di una sinistra che da un certo punto di vista non si rassegna, diciamo, a vedere in quella che è la loro roccaforte, insomma, un ministro di destra considerato un usurpatore, un rozzo. E poi c'è questo poco amico che io ritengo del tutto inopportuno e ho scritto anche per questo, per dire guardate che la destra, il principio di libertà e di dignità della persona sono dei punti fondamentali e quindi io ovviamente io sono contro ogni mostrificazione, quindi anche contro la mostrificazione di provita e famiglia che c'è tutto il diritto di dire le loro idee, le loro cose, però non si può trasformare il primo partito d'Italia in un partito, ecco, confessionale. Le questioni di fede, di religione, di orientamento sessuale, cioè queste sono scelte individuali che vanno rispettate e non possono essere in nessun modo demonizzate. Jacopo Coghe, ha capito? Assolutamente sì. Allora, le ricordo cosa ha vergato, credo lei per il suo movimento provita e famiglia, avete esultato per le dimissioni di Spano e aggiunto in questa nota, sia da monito al governo. Gli elettori non perdoneranno altri cedimenti al movimento LGBTQ+. Allora, perché? La nomina di Spano è una nomina politica irricevibile, vorrei fare un attimo di chiarezza, perché noi abbiamo lanciato la nostra protesta nel momento in cui si ventilava l'ipotesi... È irricevibile per i due scandali nei quali era stato coinvolto Spano, innanzitutto la questione del Lunar, che ci ricordiamo nel 2017 fu lo stesso centrodestra a chiedere le dimissioni... Non è stato assolto, non... Ho capito, però l'inchiesta era realistica, quei soldi... No, è realistica, è stato assolto, quindi questo è l'esito dell'inchiesta. È uscita l'altro giorno la notizia che Spano ha correlato le Iene e le Iene hanno vinto su quell'inchiesta televisiva che fu fatta, quindi vuol dire che qualcosa c'è di vero in cui l'inchiesta è stata fatta e giornalisticamente era perfetta. Ma il problema è che è omosessuale o cosa? Assolutamente no, io non lo sapevo, l'ho scoperto qualche giorno fa, nel momento in cui è uscita la notizia, dopo dieci giorni noi chiedevamo le sue dimissioni per lo scandalo del Lunar e per la vicinanza al PD, molto semplicemente questo, per questi due motivi, niente di più. Avevo invece capito che c'era anche un problema... Abbiamo chiesto al governo di centro-destra coerenza. E allora perché qui mettete gli elettori non perdoneranno altri cedimenti al movimento LGBT? Ma scusi, ma lei si immagini, mutatis mutandis, cosa sarebbe successo se un governo di sinistra avesse messo un capo di gabinetto tesserato provita? Ma cosa sarebbe successo? Il caos più totale. Gli elettori votano il centro-destra per avere un cambio di passo politico e avere persone... Ma il capo di gabinetto non è che fa la politica culturale del governo? In un ministro della cultura non fa il capo... Un ministro potrà scegliersi il capo di gabinetto di fiducia? Ma assolutamente sì. Che pensale? Gli elettori potranno criticare la scelta del proprio governo? Sì, ma il suo era un anatema, mi scusi. Ma qual è un anatema? Ma sì, è un monito. Attenzione perché è già successo. Il movimento non te lo verrà più. Ma qual è il problema? È una parola italiana molto semplice. Ma ha commesso un reato? Non è che lui orchestrava un giro di gigolò che a pagamento facevano i balletti rosa? Lui era tesserato per un'associazione del quale... C'è stato un finanziamento andato male... Ma lei si immagina al contrario cosa sarebbe successo? Tantissimi. Ma io non lo so che cosa è successo. Ma non lo so, ci fermiamo a quello che è successo adesso. Caracciolo e Scanzi. No, francamente non ho credo ben capito quello che lei diceva perché stiamo parlando di una carica di Stato, non di partito. Ancora c'è una differenza fra lo Stato e il partito. Io se sono il ministro di qualcosa posso prendere una persona che non la pensa come a me perché lo considero competente e professionale. Qual è il problema? Ma un governo di centrodestra può nominare una persona della quale lo stesso centrodestra ha chiesto le dimissioni per uno scandalo come quello del Lunar? Sì perché lo Stato non... Siamo un po' incoerenti, semplicemente noi abbiamo chiesto coerenza. Abbiamo appena finito di dire che quello scandalo è finito con quella sentenza, quindi nulla di fatto. Lo Stato non combaccia con le maggioranze di governo. Ma mica siamo in Cina che lo stiamo di gabinetto e lo nomina il ministro. Scusa, solo una cosa rapidissima. Il ministro vi ha nominato politicamente. Al volo, il problema è proprio quello che ha detto Lusso Caraccioli, il problema. Che per questa destra lo Stato e il partito coincidono. Questo è il punto che dicevo prima. Per cui tutto quello che è al di fuori dal partito non può essere Stato. E questa è la follia. No, 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 ora sto parlando del governo, sto parlando di Fazzolari e del cerchio tragico. Scansi. Beh, i temi sono tanti. Allora, sicuramente c'è un elemento profondamente omofobo da parte di alcuni membri di Fratelli d'Italia. Io vi invito, l'avete già fatto, a sottolineare l'uso della parola pederasta. Perché neanche hanno detto, non so se è pederasta, pederasta è una parola che almeno io non sentivo da decenni. È una roba che si usava nel ventennio. Quindi anche l'uso della parola è molto inquietante. Poi lasciamo stare che è un elemento minore, se dimesso, mi fa sempre ridere. Arrivano questi personaggi, Fratelli d'Italia. Oh, non sapevo che c'era, se dimesso. Ho capito, ma c'era fino al giorno prima. Sicuramente c'è un clima pesante dentro Fratelli d'Italia, perché c'è un clima da bande. Da una parte Fazzolari, la russa, e dall'altra c'è Giulia, anche se Fazzolari ha smentito. Sicuramente il Ministero della Cultura sta diventando l'avaterlo di questo governo. E questo è abbastanza curioso e sintomatico. Perché era il governo che voleva dimostrare che la destra vale la sinistra in termini culturali. Accidenti, siamo messi bene. Ma io, perdonatemi, vorrei sapere, scusate, ho ascoltato con attenzione Jacopo Koghe. Ma esattamente, provita, chi è, cosa rappresenta e quando è stata votata, al punto tale da sentire un esponente autorevole come Koghe, che dice stasera in televisione, non tollereremo che il governo farà altre cose. Ma chi è provita? Quando l'abbiamo votata? Cioè, a nome di quale arcana forza parla provita? Attenzione, la mia è una domanda retorica. No, però chiediamola, no, aspetta, chiediamolo al dottor Koghe. Chi rappresenta, cosa rappresenta, quanto contate? È un'associazione portatrice di interessi, che rappresenta gli italiani che credono nei valori della vita, della famiglia, della libertà educativa, che ha trovato in questo centrodestra durante le elezioni... Dice chi vi ha votato, ma non è che uno deve essere votato per avere diritto di parola. Per criticare il governo, ogni cittadino può criticarlo. L'operato del governo, sia di destra, di sinistra, di quello che vi pare. Senza dubbio, senza dubbio, per utilizzare questi toni, però diciamo che dovreste avere una certa forza. Io non vengo in televisione a dire non tollererò che il centrosinistro e il 5 Stelle facciano altre cose. Direi, non sono d'accordo... Ma lei è un giornalista, non è un rappresentante di un'associazione che ha centinaia di migliaia di iscritti. Quanti ne avete iscritti? E rappresenta centinaia di migliaia di persone. Quanti ne avete iscritti? Centinaia di migliaia di persone. Quanti, saprete quanti ne avete iscritti? Il numero preciso non glielo so dire adesso, se vuole chiede che lo faccio. E' il portavoce. Le nostre petizioni raggiungono centinaia di migliaia di firme, l'ultima petizione contro il gender nelle scuole ha raggiunto 100.000 firme di persone che seguono la nostra attività. Abbiamo fatto due Family Day, abbiamo riempito due piazze... No, 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 ma era una mia curiosità perché inolastamente non lo so. Sicuramente non rappresento solo me stesso. No, 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 ma su questo non c'è un po' di dubbio. No, 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 però attenzione Lili, perdonami, però c'è una cosa importante da dire, al di là del ruolo di COG, per carità e non lo conosco, gli auguro ogni fortuna. È ovvio che questo governo porta i dettami e l'idea di famiglia, di vita, di morte, di eutanasia di provita. E questo è un tema nevragico. A me fa piacere che Terranova abbia scritto le cose che ha scritto con grande coraggio, inimicandosi anche parte della sua, diciamo, forza politica. Brava, complimenti e onestà intellettuale, non avevo dubbi. Però provita, spesso coincide con Meloni e viceversa. Voi ve la ricordate? Molti lettori del centro-destra si identificano con i nostri valori e il centro-destra si identifica con i nostri valori. Se fa un giro sui social, su internet e vede lo scontento, è successo nel caso spazio. Per fortuna i social non coincidono con la realtà, ma io me la ricordo la Meloni al congresso di Verona, disse le stesse cose. E questo è un tema, secondo me, drammatico, ragazzi. Allora, aspetta. Sto volando su una cosa che è terribile, ma perché io devo farmi dettare la linea, la cosiddetta morale di Stato? Ma infatti se posso dire... No, adesso mi fermo, no, un attimo. No, perché allora a questo proposito voglio chiedere io qualcosa a Jacopo Koghe. Lei è sposato, ha sei figli, immagino si è sposato felicemente da vari anni, da quanti anni è sposato? 15 anni. 15 anni. Allora, faccio un elenco, diciamo, delle famiglie tradizionali che abbiamo al potere oggi. Allora, Giorgia Meloni si è separata dal suo compagno, col quale ha fatto una figlia fuori dal matrimonio. Sua sorella Arianna ha dichiarato qualche mese fa che in un'intervista nessuno gliel'aveva chiesto che sono separati in casa col ministro Lollobrigida. Matteo Salvini ha due figli da due donne diverse, ha avuto tante compagne, adesso ha una fidanzata. Allora, come mai c'è tutta questa tolleranza da parte vostra nei confronti dei referenti politici ai massimi livelli che sono tutto forché Dio, Padre e Famiglia e la famiglia tradizionale? Questo onestamente non capisco. Secondo me c'è una confusione dei piani. Un conto è il piano personale e un conto è il piano pubblico politico. Noi rimaniamo sul fatto politico, non giudichiamo la vita personale di Giorgia Meloni. Il piano vale per tutti, vale anche per i trans, vale per le lesbiche, per gli omosessuali. La nostra critica sulla nomina di Spano è avvenuta prima che uscissero tutti quei fatti. Lei ha appena detto che voi difendete i valori della famiglia tradizionale. Politicamente noi valutiamo le azioni di questo governo, le azioni, le proposte, le manovre economiche che vengono fatti, come vengono apportati gli aiuti alle famiglie, come viene tutelata il diritto dei genitori all'interno delle scuole. Ma non c'entra nulla con i membri del governo, non c'entra nulla. La famiglia comunque è una sola, le altre sono delle opinioni civili, sono delle formazioni sociali, è qualcosa di differente. Non vorrei confondere su questo. Ma anche tripla, guarda, anche tripla, non è solo doppia. No, perché non ho ben capito veramente voi cosa difendiate. Ma non l'ha capito nessuno. Ma io l'ho capito benissimo. La verità è che tutto quello che sta dicendo Koghe e che ha scritto nel suo testo, e tutto quello che l'associazione Pro Life fa, dimostra che c'è senz'altro il riconoscimento del valore della famiglia, che però viene declinato nella maniera più oscurantista possibile, ivi compresa una certa evidente omofobia, perché ora lei dice che non è vero. Ma quanto contano i... Ecco, il problema, stavo dicendo... Aspetta, le dico solo questo, dico una cosa a suo favore, dopo di che ogni associazione è libera di sostenere quello che vuole. Il problema non siete voi, per quanto dal mio punto di vista siete anche voi, perché come abbiamo visto adottate una doppia o tripla morale, perché vi riconoscete in questo centrodestra, che è il faro della civiltà che tiene alti i vostri valori, salvo poi che nelle loro famiglie fanno carne di porco della famiglia. Ma a parte questo, il problema non siete voi, è la politica che vi usa per dimostrare una politica fatta tutta di atei devoti, perché questi sono tutti atei devoti, non ce n'è uno solo di questi, che al di là del fatto come ha scritto giustissimamente la Terranova, alla quale faccio i miei complimenti, vanno nei comizi agitando... Non cercare di arruolare a sinistra la Lisa Terranova. Vanno nei comizi agitando il rosario, e anche quello è una blasfemia, perché non credono in niente di tutta quella roba là. Però usano voi... Io non mi sento di giudicare la fede, nessuno dicendo che è una blasfemia. Io invece sì, io mi sento di giudicare. Se lei ha questa autorità di poter giudicare... Non ho un'autorità, è una mia valutazione come la sua. Io però non faccio anatemi, non dico, non telleremo più che Salvini faccia. Salvini fa quello che vuole, lo posso criticare? Possiamo criticare le scelte di questo governo. Le dico però esattamente questo, il problema non siete voi, ma è questa destra senza valori, che dice di averne usando voi. Hai capito quello che penso io? Questo è il vero problema, e lo fa per mascherare giochi di potere. Cioè vogliono tenere in mano, non una roccaforte della sinistra, su questo non sono d'accordo con te, ne avete parlato anche ieri sera. La destra ha tenuto il Ministero della Cultura per una legislatura intera, con Urbani e Buttiglione, 2001-2006, poi è arrivato Galan, cioè non siete stati capaci di costruire la leggemonia culturale, ma in tempo l'avete avuto. Forse non ce l'avevate la cultura, questo è il vero problema. Qui c'è un problema politico, e Giorgia Meloni ha già scelto, ma con chi sta? Con Pro Vita e Famiglia, o sta con una destra più, diciamo, sempre conservatrice, ma più contemporanea, Giulia l'ha scelto, Giorgia Meloni, ricordo. Eh certo, Giorgia Meloni ha scelto Giulia come Ministro della Cultura, e anche prima alla fondazione del Maxi. Credo che ci siano degli equivoci culturali. Il primo è che esista una superiorità culturale in quanto tale della sinistra, ci sono persone coltissime della sinistra e della destra, quindi questo togliamolo di... Secondo, ma che cos'è la famiglia tradizionale? Qui abbiamo, secondo le statistiche in Italia, circa 8 milioni di famiglie, tra virgolette, tradizionali e 9 milioni di single, quindi di che stiamo parlando? E poi quale sarebbe la tradizione a cui ci si rifà? Lei mi pare che riporti un discorso molto interessante a qualcosa che ho letto nei libri di storia, ma attualmente il mondo va in un modo diverso, primo. Secondo, per quanto riguarda la questione specifica, credo che ci sia un problema anche psicologico, cioè stiamo parlando di un partito, Fratelli d'Italia, che è stato ghettizzato, o si è autoghettizzato, scegliete voi, per qualche decennio, e improvvisamente si è trovato al potere, non capisce più niente. Cioè è chiaro che c'è un tentativo di occupare tutti gli spazi possibili. Annalisa Terranova, sei d'accordo? No, no, non sono d'accordo, perché ribadisco che il problema non è Provita e Famiglia, che io cito in un posto lungo, insomma, ma affrontavano altri temi. Certo, con i sette punti... Sì, appunto. Cioè il problema, io non credo affatto che Spano si sia dimesso perché è sgradito a Provita e Famiglia, perché Provita e Famiglia da subito, fin dalla nomina di Spano, dal 14 ottobre, ha cominciato a raccogliere le firme e a criticare questa scelta. Si è dimesso per questa pressione mediatica che si è ingigantita con l'annuncio dello scoop di Ranucci. Perché evidentemente non ha retto questa pressione. Forse si è dimesso anche per pressioni politiche, non credo si sia dimesso per l'annuncio e il rapporto. Dal centro-destra non è mai arrivata una richiesta a Spano di dimettersi. Però ho parlato di sgradevoli attacchi personali, che non sono quelli di Ranucci, Annalisa. Non possono essere quelli di Ranucci. Ricordo solo, Annalisa, che Giorgio Meloni ieri ha detto, a proposito di Francesco Spano, che c'era del nervosismo in Fratelli d'Italia. Sì, appunto. Quello che io sto cercando di spiegare è che non è possibile sovrapporre gli intenti, la cultura, la visione di Provite e Famiglia, che a mio avviso fa bene a lavorare sui loro temi. Loro sono un'associazione. Fratelli d'Italia è il primo partito d'Italia. Le due cose, quando io dico chiarire l'equivoco, chiariamo intanto questo equivoco qui. Fratelli d'Italia e Provite e Famiglia non possono essere sovrapponibili. E io penso che, inutile dire, c'è la guerra per bande, Fazzolari contro Giuli, la russa contro Fazzolari, insomma, e tutte queste cose che ho letto, eccetera. Io dico invece, viva Dio, che finalmente si dibatte a destra su quali debbono essere le politiche sui diritti, sulle scelte delle persone. Ma non è questo di cui si sta discutendo. Io ho sempre avversato il partito contorno, pur non mettendo assolutamente in discussione la leadership di Giorgia Meloni, che stimo, però è necessario anche approfondire, dibattere e richiamarsi alla tradizione che esiste di una destra laica che ha come punto di riferimento la libertà, la dignità della persona. Quindi questo esclude, di fatto, ogni deriva confessionale. La chiamo deriva confessionale perché, secondo me, non è possibile sovrapporre le questioni di fede alla politica. La politica, da Machiavelli in poi, è laica in Italia e deve continuare ad essere. No, sono lieta che lei dica questo, sono lieta che lei dica questo. È una questione politica, politica, qui stiamo parlando di una questione politica. Ma sì, però no, stiamo confondendo molto le acque. Andrea Scanzi, c'è una guerra per bande in Fratelli d'Italia, c'è un equivoco sul modo di formulare le proprie idee nel caso del dottor Koghe? Perché credo che siamo tutti ancora più confusi. No, siamo confusi, ma secondo me ci sono delle certezze che questo governo, sicuramente Fratelli d'Italia, dentro è abbastanza diviso. Comunque c'è una guerra per bande. Sicuramente il livello della classe dirigente è imbarazzante, come sta dimostrando quello che succede nel Consiglio dei Ministri. Doppia, tripa, quadrupla, murale. Ma la cosa che mi fa più paura, e stasera ne ho prova, è la volontà che ha questo governo, che in termini etici sulla famiglia, sull'eutanasia, sull'amore, sulla famiglia, coincide drammaticamente per intero, con Provita, di imporre queste idee oscurantiste a tutti noi. Io non ho niente contro le idee di Koghe. Koghe è della sua vita, fa quello che vuole. Un'associazione fa quello che vuole. Ma la differenza tra me e Provita, e purtroppo il governo, è che Provita e purtroppo il governo vogliono imporre a me le loro idee oscurantiste. Ma chi siete? Per dirmi certe cose, perché io sull'eutanasia devo ascoltare Gasparri? Perché io sull'idea di amore e di famiglia devo ascoltare Koghe. È questo che è aberrante. Koghe e quindi Meloni, che la pensa esattamente come Koghe, anche se poi nella vita privata fa l'esatto opposto. È questo il tema politico drammatico? È questo il tema politico drammatico? Ma questa è la realtà dei fatti. La differenza tra destra e sinistra è palese. Una destra che ha a cuore dei valori e la sinistra no. A me è imbarazzante ascoltare Bazzoni che fa una proposta di legge su fine vita. La destra coincide con lei. Ma lei dice che oscurantista, la metà degli italiani hanno portato Giorgio Meloni al governo e non credono a quello che dice lei. Quindi lei sta insultando tutti gli italiani che hanno portato il centro-destra e che credono in questi valori. Mi dispiace. Koghe non ci fa fare. È così. Sta dando degli oscurantisti agli italiani che credono in questi valori. Assolutamente sì. Mi permetta. Posso parlare. Posso parlare. No, Scansi, che è collegato. Che fa più fatica. Stavo parlando io. Vedo che oltre ad essere oscurantista è anche antidemocratico. No, no, no. Lei sta appena dicendo che tutti... Vabbè, l'ho detto, lo penso, lo ridico. Lei sta dicendo che tutti gli elettori della Meloni coincidono con lei. Quindi lei è praticamente una sorta di deus e macchina del paese. Cioè tutti gli elettori del centro-destra hanno un'idea di famiglia retrogata sull'artista come lei. Coincidono i valori. I suoi valori sono quelli di tutta la destra. Quindi la Terra Nova è eretica rispetto a lei. Ma cosa sta dicendo? Ma lei chi è per coincidere con l'idea del governo? Ma da dove esce Koghe? Ai tempi di Torquemada sarebbe stato retrogato. Ma di che parla? Non rispondo agli attacchi personali di Scanzi. No, non vogliamo... No, vi faccio passare il microfono. Non voglio attacchi personali. Non mi interessa perdere tempo in queste cose. Io non ho ancora capito quanti sono i vostri iscritti. La prossima volta che viene ospite a 8 e mezzo ce lo dirai. Il numero è esatto anche perché immagino che vogliate fare proseliti. Poi siccome diciamo... Associati, per carità di Dio. Ma sì, tra virgolette. Però siccome diciamo in tutto questo oscurantismo c'è anche una ministra... Accendiamo la luce se è tutto questo oscurantismo. No, la spegnete la luce perché se abbiamo una ministra della famiglia, delle pari opportunità, della natalità, ex radicale, ex femminista, non so, se si è ex o cosa o questo, non lo so. Nel vero senso. La ministra Roccella che ha invitato i medici a denunciare casi sospetti di bambini portati alla luce attraverso la gestazione, diciamo l'utero in affitto come viene definito il modo. Sarebbe la gestazione per altri. Lei è d'accordo su questo? La gestazione per altri è molto politica. Ma lei è d'accordo sul fatto che i medici si debbano denunciare un bambino... In alcuni casi esiste la possibilità che i medici facciano delle denunce quando... No, 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 nel caso specifico. Nel caso specifico di bambini nati con la gestazione per altri. Bambini nati comprati, bambini comprati sul mercato dei bambini. Se qualcuno scopre che un bambino è stato comprato... Mi risponda la domanda. Il medico deve diventare delatore. Non è un delatore uno che viene a sapere di un reato e lo denuncia. No, lei non mi deve rispondere. Ma no, lei mi sta chiedendo quello che vuole lei. Mi vuole far dire quello che dice lei. Perché è di Dio? Io sto dicendo che il medico... Ma tutti i medici hanno risposto che il loro dovere è curare. Può denunciare. Non denunciare. Ma stiamo scherzando. No, se viene a sapere di uno stupro, allora il medico non deve denunciare. Abbia pazienza però, non è la stessa cosa. No, la compravendita di essere umani non è la stessa cosa. Io ho una posizione... Unita in Italia con due anni di carcere e con un milione di euro. Io sono problematico sulla gestazione per altri, d'accordo? Ma trovo assurdo e vergognoso che una disciplina che esiste in molti altri stati e in molte altre democrazie è legale, ok, venga considerata per pure ragioni di ideologia, ma la peggiore, reato universale. in Italia. E si arrivi al punto, come fa la Ministra Rocella... Perché persino gli Stati Uniti d'America con il Dipartimento di Stato si sono detti preoccupati. Esattamente. Ma siamo al punto che si pensa alla lettera scarlatta alla matriciana attivata dai medici che devono denunciare. Qui c'è da proteggere i bambini. Esatto. Dismettete questa idea del costandoli perché lui è un affitto, lui è un affitto, è una pratica per scusi, ma se sono stati partoriti all'estero dove è legale e poi tornano qua, che cosa facciamo? Il medico denuncia, ritorniamo i bambini e non sappiamo dove vanno a finire, dove vanno a... Sì, in quel modo, in quel modo, ma via, questo è medioevo, è medioevo che serve strumentalmente lo stavolto delle donne è medioevo. Continuate così, continuate così. Tanto l'Italia ha detto bene Caracciolo, stanno tutti da un'altra parte. Allora sì, la realtà è un po' diversa, per fortuna, anche della società italiana che ne pensiamo. E diciamo, il medico dell'attore non si vede in nessun paese civile, democratico, e vi hanno risposto i medici, anche alla Ministra Rocella, in modo assolutamente chiarissimo. Lucio Caracciolo, siccome oggi è uscito il nuovo, attesissimo numero di Limes, dal titolo La notte di Israele, allora intanto io ho letto al volo subito l'editoriale di Lucio Caracciolo che apre tutti i numeri di Limes, è estremamente interessante perché ci spiega perché La notte di Israele ci riguarda tutti, non solo l'Occidente, ma anche l'Italia, anche noi italiani. Ti voglio chiedere, siccome poco fa Netanyahu ha detto che accoglie con favore gli sforzi dell'Egitto per un accordo su Gaza, pensi che ci sarà un accordo in tempi rapidi per far finire questa carneficina nella striscia di Gaza, che intanto continua mentre noi parliamo di molte altre cose. E quanto contano gli ultraortodossi estremisti che tengono in vita il governo di Netanyahu in Israele? Dunque, allora, per quanto riguarda l'Egitto, la mia sensazione è che sia la riscoperta del non tanto famoso, ma insomma del piano Eiland. Che cos'è il piano Eiland? Si prendono i palestinesi, li si sbattono fuori da Gaza, gli si fa una specie di campo profughi nel Sinai e si risolve la questione. Tornano i coloni a Gaza e i palestinesi sono espulsi da Gaza. Per quanto riguarda gli ultraortodossi, che non sono la parte dell'estrema destra religiosa tipo Benvir, ma sono quella parte di ebrei che vivono in Israele, i quali non riconoscono Israele come il loro Stato, nel senso che intanto non servono nelle forze armate, passano la vita a studiare la Torah e quindi sono degli ebrei che vivono contro lo Stato laico perché pensano che debba arrivare il Messia. Comunque, il punto vero di questa vicenda è che l'interpretazione religiosa messianica di questa guerra dalla parte di alcuni ebrei e naturalmente anche dalla parte di diversi islamici sta portando questo conflitto fuori da ogni razionalità e fuori da ogni possibilità di compromesso. Allora, la notte di Israele, pubblicità. Siamo in chiusura, grazie Andrea Scanzi, grazie Annalisa Terranova, grazie Massimo Giannini, grazie Jacopo Coghe, grazie Lucio Caracciolo. Ricordo il nuovo numero di Limbe è uscito oggi dal titolo La notte di Israele. Adesso state con noi perché c'è piazza pulita, con Corrado Formigli e noi come sempre domani otto e mezzo. Arrivederci.